Allora, stiamo parlando della situazione critica delle persone non autosufficienti, sono moltissime. Dove vivono, cosa fanno, quali sono le prospettive, da qua in avanti, cosa si prospetta, perché bisogna guardare sempre un po' più in là, invece noi affrontiamo sempre le emergenze come si presentano. Sergio Furlanetto, lo SPI stava analizzando aspetti oggettivi e ha fatto un'osservazione molto interessante, ha detto in queste strutture non si parla di persone che ci vanno per trascorrere il proprio tempo perché stanno bene, eccetera, per carità ci sono strutture dove alcuni fanno delle scelte ben precise, ma per lo più sono persone che hanno problemi di salute e qui sta la prima criticità che voi avete analizzato. Quali sono le criticità emergenti? Poi andiamo ad affrontare tutto quel che riguarda la domiciliarietà, i caregiver, la famiglia, che là si apre un mondo, so delle tragedie effettivamente. Vediamo anche le slide di supporto. Sì, hai ragione, poi dobbiamo andare a ragionare anche di quello perché io forse per deformazione di quello che ho fatto prima vedo la cosa in maniera complessiva, quindi la non autosufficienza, l'invecchiamento attivo, le case di riposo, la sanità territoriale, l'assistenza domiciliare, quindi è una rete sulla quale si deve andare inevitabilmente a ragionare. Ma venendo alla questione che mi hai posto delle criticità delle case di riposo, il primo problema è che gli anziani che oggi accedono alle case di riposo non sono più gli stessi di una volta, non perché quelli di una volta purtroppo sono andati avanti, sono morti, ma nel senso che hanno una motivazione diversa. Mentre una volta gli anziani che c'erano alle case di riposo erano più giovani, avevano meno problematiche e quindi le case di riposo avevano un ragionamento da fare sul socio assistenziale. Anche a tempo libero, cioè come impiegarli nel tempo libero. Lo fanno ancora oggi per quegli anziani che possono avere questo, questo. Però oggi gli anziani accedono alle case di riposo in età molto più avanzata, l'età media ha 85 anni e quando accedono hanno molte patologie croniche e quindi da socio assistenziale queste strutture sono diventate pian piano socio sanitarie, ma che però non hanno la componente sanitaria all'interno, sia per mancanza di medici, mancanza di infermieri, ma anche perché il modo di lavorare alle strutture gli è dettato dalle non scelte che ha fatto la regione. Noi abbiamo gli standard sia degli immobili che dovrebbero essere ristrutturati, riorganizzati in maniera diversa rispetto alle necessità delle persone, sia gli standard, quelli sanitari, noi abbiamo le percentuali prestabilite di OS, di infermieri, eccetera, che sono ancora quelle di quando appunto erano socio assistenziali. Oggi c'è bisogno di molto più personale con qualifiche diverse, con qualifiche più sul campo sanitario. Vicepresidente, a questo proposito, diceva regionale, scelte regionali che non sono state fatte. Lei che abbraccia sia la regione Veneto, perché comunque ha una competenza anche di carattere regionale, però ha una responsabilità anche nazionale. Ravvede nella nostra regione un'inefficienza particolare rispetto ad altre, oppure tutto sommato siamo nella stessa minestra, chi più chi meno? E quindi c'è un problema anche ben più grosso. No, mi sento di dire che la situazione di questa evoluzione delle residenze, quindi delle persone sono accolte esattamente la stessa entità Italia. Anzi, mi sento di dire che sicuramente si sa che il modello Veneto è leggermente più avanzato rispetto agli altri, però la fotografia che ne è stata fatta è esattamente questa. E a livello nazionale si ripresenta sempre la stessa difficoltà. E cioè il fatto che l'evoluzione dell'accoglienza riguarda persone con pluripatologie, con pluriterapie, quindi con la presenza di personale sanitario, sia in termini di competenze, sia in termini di numero, che deve assolutamente essere adeguato. Questa visione generale ovviamente ha messo in luce qualche cosa che il Covid ha fatto veramente esplodere concordo con quello che è stato detto. Deve esistere la filiera dell'assistenza, bisogna pensare a una filiera generale che va dal domicilio fino anche all'assistenza ospedaliera, dove però il territorio ha una sua definizione. Il territorio perché le residenze per anziani fanno parte dell'assistenza territoriale. Quindi questo ruolo è fondamentale perché è l'aggancio più vicino alle residenze delle persone ed è lo snodo principale successivo alle eventuali difficoltà sulle dimissioni ospedaliere. Quindi questa catena, questa rete di servizi intorno alla persona va riadeguato in generale. D'altra parte oggi sappiamo che la mancanza di figure sanitarie, in particolare gli infermieri, non sono mancanze nelle residenze, sono mancanze nel territorio, nelle residenze, negli ospedali. Questo vuol dire che la programmazione effettuata in Italia, dove il numero di infermieri necessario richiesto da tutte le regioni e dagli ordini professionali si avvicina a un numero di 24 mila all'anno richiesti, le università ne formano 17 mila. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è proprio discrasia fra la programmazione, la necessità e quello che viene reso disponibile. Infatti questo è importante. Chiedo a lei come parere, ma secondo la vostra analisi, poi interviene anche naturalmente il responsabile del sindacato dello SPI e anche la segretaria. Non è che bisogna rivedere proprio il modello, nel senso che abbiamo queste persone molto molto anziane, che sono, come diceva lei, sono dati alla mano, ovvero 85, ma ce ne abbiamo 90, 95, 100 anni, che hanno pluripatologie, sono fragilissimi, per cui un'eventuale altra pandemia può veramente, o qualsiasi cosa può verificare, può essere fatale. E poi abbiamo tutta una fascia di popolazione che invece ha bisogno di un'assistenza organizzata, strutturata, che non può più stare nel proprio domicilio, ha bisogno anche di strutture intermedie, non strutture intermedie, perché avrebbe bisogno di un luogo di convivialità, ma dove poter anche essere assistiti di notte, eccetera, ma non può permettersi di entrare neanche in casa di riposo. Non sono così messi male fisicamente, quindi creare delle strutture veramente diverse, casa di riposo, struttura sanitaria, chiamiamola casa di riposo sanitaria, casa di riposo invece per chi, come una volta, fa questo tipo di scelta. E poi chi può permettersi il domicilio, fa il domicilio, ma lì si apre un altro capitolo che lo voglio affrontare, perché non è una cosa di poco conto, vedo persone che hanno dei grossi problemi. Strutturare diversamente, quindi parlare a livello regionale, che bisogna rifare questa programmazione, bisogna rifare tutto un piano anche di regolamentazione, che però veda strutture completamente diverse. Con la tua domanda mi tiri dentro su due piani. Un piano che è quello della strutturazione del sistema sul territorio, a partire dalla necessità di completamento degli ospedali di comunità, passando poi per le strutture intermedie, come le case di riposo, le RSA, le strutture riabilitative, gli hospice. E qui, passando per questo, c'è tutto ragionamento da fare su quale ruolo questi devono avere. Noi, nella proposta che avevamo portato avanti negli scorsi anni di riforma, per esempio, delle IPA, perché sono le strutture pubbliche, le case di riposo pubbliche, vedevamo che queste strutture dovevano diventare a tutti gli effetti un pezzo della sanità pubblica. E non solo questo, noi ragionavamo con la regione anche della questione delle case di riposo private, non pubbliche. Nel senso che molte delle case di riposo private ricevono i finanziamenti da parte della regione per le persone non autosufficienti che vengono ricoverate. E noi chiedavamo alla regione non solo la riforma delle pubbliche, ma anche un proprio intervento di indirizzo rispetto alle case private accreditate da parte della regione. E qui la regione ha sempre cercato di scaricare la cosa, dicendo ma hanno un loro consiglio di amministrazione e noi non possiamo intervenire. Sì, però i soldi gli eliviamo. Quindi una cosa che deve la regione mettersi in testa è che bisogna cominciare a pensare di quale connubio mettere in piedi tra strutture private e strutture pubbliche, tra sanità privata e sanità pubblica. Perché noi vediamo che oggi anche a causa del Covid, ma non solo, ma anche per tutte quelle inefficienze che dicevamo prima e mancanza di personale, ci sbattono verso i poliambulatori privati, dove il personale invece c'è, ma oggi stiamo verificando che anche i poliambulatori privati per alcune tipologie di intervento stanno andando in difficoltà, perché dove il pubblico scarica troppo sul privato anche loro incominciano ad avere problemi. Quindi la regione Veneto, con le autonomie che vuole avere, quella della sanità già ce l'ha, dovrebbe incominciare a pensare al connubio pubblico privato su tutte queste questioni che riguardano appunto dalle case di riposo, ma anche dal rapporto sanità pubblica e sanità privata. Su quanto ha detto invece Gino Ferreri, su cosa ne dice? Sono d'accordo con quello che dice Sergio, riportando tutta la discussione poi al fatto che come sindacato unitariamente abbiamo pensato di elaborare questo documento, è che non corre il rischio di affrontare a pezzi il problema, perché non ne veniamo fuori. Quindi al centro c'è la non autosufficienza e si deve in qualche maniera intervenire un po' in tutti i campi che riguardano la non autosufficienza, ripeto, a partire anche dall'assistenza domiciliare, perché là, facendo i conti, noi abbiamo tre quarti delle persone non autosufficienti che sono a casa, che sono assistite a casa. Attualmente la residenza è quasi l'ultima spiaggia rispetto al fatto che non si gestisce, non si riesce più a gestire il non autosufficiente a casa, a quel punto si decide di arrivare. Quindi va rivisto il modello, come dice lei, nel senso che alla fine i centri, i servizi, le case di riposo, come vogliamo chiamarle, dobbiamo rivederle. Allora, noi abbiamo, la Regione Veneto ha fatto un piano sociosanitario dove ha distrutto i posti letto in lunga degenza. Ci sono solo, in tutto il Veneto, la programmazione regionale ha previsto 45 posti letto per la nona. Le strutture intermedie, che non ci sono più. Ex-lungo degenza. Sì, sì, che non sono mai stati attuati. Tutta questa roba qua si è scaricata da un lato su queste strutture intermedie che ci sono e non ci sono, perché anche quella programmazione fatta non è ancora attuata. E in parte, e in gran parte, si è scaricata nelle strutture residenziali per anziani. Questa è la verità. E non solo le famiglie. Finisco con un tema grande, che è quello delle risorse. Allora, perché qua bisogna, allora capito che è un grande problema e che ci vogliono più risorse dal livello nazionale al livello locale, c'è la necessità di rimettere a posto tutte queste cose qua. Quindi a livello nazionale adesso il PNRR ha previsto che entro il 2023 si debba fare, ed è obbligatorio, ma non è che si scappi, una legge sulla non autosufficienza che è importante non solo per le risorse che eventualmente arriveranno. Ma è importante, specialmente, per identificare quali sono i livelli essenziali delle prestazioni sociali. I famosi LEA. I LEA sono quelli sanitari, i LEPS sarebbero quelli sociali. Lì potrò dire cosa ha diritto in un autosufficiente, sia che sia a casa, sia che sia nelle residenze. Questo è un aspetto importante, si doveva andare in pubblicità, per cui dopo do l'intervento sia alla segretaria che anche entrambi, interveniamo su questo tema che è importantissimo e affrontiamo anche il discorso della domiciliarietà che è anche molto molto critico. Pubblicità a pochi secondi.